buongiorno da ilenia e da morgana il ritorno di morgana e è tornata morgana ragazzi sono andata a prenderla dalla nonna e via che si riparte con i video e quindi cosa cosa facciamo di bello? grattiamo e vinciamo oggi grattiamo guarda abbiamo già dai lacchi non puoi farti vedere le monete da 20 oggi abbiamo io ho un centesimino da 10 che voi non vedrete mai perché non lo inquadrerà mai eccoli qua quindi noi con questi 30 centesimi oggi cosa faremo morgana? ben sei busti beh magari c'è chi ne ha già aperte 200 arriviamo noi che ne abbiamo ben sei allora cosa mi ha detto oggi la crystal queen? cosa ti ha detto crystal queen? mi ha detto che è una mia amica anche lei le ha aperti e sai che ha trovato? chi? la sua piccola davvero ha trovato la sua lillina ha trovato ma chi è la nicole che l'ha trovata? eh sì la salutiamo? sì ciao nicole allora ma salutiamo anche la sua mamma? sì ciao jessica allora apriamo questi tre li apro io tre li apre Morgana si mi sono resa conto dopo che li ho comprati che vabbè non penso che c'entra qualcosa quello che sta davanti però ho preso più lil che lol ho preso quattro con le lil davanti e solamente due con le lol va beh allora allora questo qua è il sacchettino vai aspettate allora sono 108 da collezionare all'interno tre secret disc di cui uno sempre special e rivista officina edicola costo ehm 1 99 questo è le istruzioni di come grattare praticamente dice 108 secret disc da collezionare di cui 28 della serie 1 80 della serie 2 ogni disco è composto da 5 caselle inizia a grattare partendo da quella tonda grande quindi da questa qua eh dove sono arrivata e scorpi la tua lol surprise continua in senso orario e troverai le curiosità il messaggio in codice e altri fantastici segreti qui ti fa vedere tutto facciamo bim bum bam e poi dice e in ultimo scopri la casella forma di stella che è questa qua che ti svelerà altri segreti della tua lol surprise allora facciamo bim bum bam perchè apri per prima ma per me puoi partire direttamente tu no dai apri per te allora ma facciamo che ne apri uno io no te uno io no te allora già che ho in mano questa qua questa chi era l'il majoret ma c'entra qualcosa quella che c'è davanti con quella che c'è di dietro no vero quindi non guardate la mia unga che si è staccata dunque all'interno del ciao tigre l'abbiamo spaccato troviamo scusate allora andiamo a curiosare majorette troviamo la mc svog la roller skater che è della prima serie e anche questa tu hai trovato tutte della prima serie mi sembra sì perché questa qua in teoria l'il majorette maggiore e queste qua vabbè sono piccolissime però è tutta la checklist super bb baby cat questo vi faccio vedere velocemente il magazine in allegato con queste due ragazze che sono sorprese in forma disc da grattare scoprire qua c'è un po' di curiosità sul miele dei giochi indovina come fare le unghie impara ad applicare lo smalto impari legna impara e impara acqua di lusso le scarpe da record il giro del mondo los angeles usa e hollywood mi piacerebbe andare a hollywood la tocca speciale studio i cani amano reghi non so dovremmo provare conosci l'ipopotamo caratteristiche natura morgana mi è caduto il mio soldo e qua siamo arrivati alla fine anno 1 numero 4 1 euro 99 io direi di procedere queste due qua mi sa che sono uguali vabbè vediamo allora non varia con cosa cosa gratto per primo lo che vuoi invece di grattare questo grattiamo questo ecco un'altra moneta da vinto grattiamo prima vabbè abbiamo trovato mc svog infatti dovrei grattare prima quella sta non rovinare è la mc sì ma dopo si pulisce oh mamma è un po' e noi siamo fortunati qua qua cosa dice mc svog e qua ti dice che praticamente è del glick lab è una popolar ma va il numero questo è il suo numero serie 1 numero 13 di 28 no ah sì giusto pensavo che sei che torna la stella mamma questo non vabbè noi non l'avevamo trovata con questo indizio però perché nella prima serie gli indizi erano a random cool cat cool cat e qua abbiamo la stella che cosa ci dice ah il cappello che è l'accessorio della mc svog era il cappello allora diamo una pulita facciamo vedere veloce ma guarda guarda e abbiamo la lì di dietro sì la sua poi grattiamo velocemente anche questo la roller skater la lì la roller skater che noi abbiamo già e c'è la sua grande dell'athletic club ed è un'ultra rara qui abbiamo il suo numero e qui abbiamo il suo indizio sì questo giusto sì sì che è un contesto best friend best friend è così che giro bello questo aspetta che diamo una pulita e vai con la lì andiamo con l'ultimo quello con la lì maggiorette vediamo chi troviamo la lì lì il tic c'è spett vabbè lo immaginavo guarda lo sfondo infatti lì tic c'è spett dello spirit club lei è una popola ma ci vedete si io guardo si a fuoco qui è il suo numero e questo è no noi non l'avevamo trovata o sì 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 e questa è la sua borsa infatti tocca meglio vedere veloce bene ha soffiato a morgana per tirare via un po di non va l'abbiamo rovinato no l'abbiamo rovinato ma io guardo quella lì il mar baby che violenza no ma guarda io guardo oh tesoro vediamo che sono curiosa di sapere chi hai trovato lì il mar baby la lil però la lil eh ma io l'avevo trovata di qua cambia qualcosa no vabbè ma noi è il disco che dobbiamo va bene lil posh no è la lil rocker vai gratta briciola che bene io parto con questa qua aspettate che è la lil mar baby la lil mar baby che abbiamo noi abbiamo anche lei lei è la genietta mi sa già la lil genie lil scusate ma io ho gatto così dopo glielo fai vedere lei è molto bella sì dopo lo grattino molto bene ok infatti si chiama lil genie 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 teatro club è una fancy poi qua c'è la targhetta col suo numero e qua abbiamo l'indizio che si mi ricordo era questo lo spettacolo chiama è come me è uguale vero mamma ma dai c'è scritto lo spettacolo chiama sì ma pensa te l'ha tradotto in italiano quando l'abbiamo trovato noi non era c'è sempre scritto lì no 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 eccolo lì eh sì pensa te e un po' ecco la stellina la sua borsetta che abbiamo trovato noi che abbiamo trovato noi però questa lil qua era uscita anche con l'altra borsetta con la borsa con sulla quadrata con la lampada fatta tutta e sopra la lampada di arrabina la prima con la lil mar baby abbiamo trovato lil genie genie vai poi passiamo in ordine la lil roley skaters vabbè ovviamente troviamo la sua grande certo io ho trovato sulla grande ho trovato la piccola e tu sulla piccola trovi la grande io sono piccola che fantasia te zara sei piccinino l'amore della mamma piccolina non sei te ecco bacetto in diretta tv internazionale roley skaters è una fancy si ed è l'athletic club anche lei infatti era nello stesso club della mcswog e si no l'amcswog non è nell'athletic club no ho sbagliato è la glee club ah è la glee club che stupidin che sono è vero c'hai ragione cosa è successo lucky devil questo qua è in inglese questo qua l'avevo trovato siamo andati a vedere nei vecchi video avevo aperto l'anno scorso l'anno scorso avevo fatto arrivare delle tanto gratta amore avevo fatto arrivare delle ball dall'america con sudiva che adesso sono uscite in italia e vai guarda guarda i suoi kitty noi vedete abbiamo fatto la famiglia si è vero e e lei l'avevo trovata con quell'indizio lì vai mo quindi guardate un po' guarda o le o le o le vai mo vado con l'ultimo che è l'ifl rocker intanto io inizio ad aprire joy intanto io inizio ad aprire l'altro sacco ok mamma io non ho capito chi è proprio dai capelli non si capisce proprio l'il diva oh siamo state fortunate in questo grande oh che carina l'il diva l'il club grandiamo un pochino vedete meglio eccolo lì e l'indizio è questo music video music video qua farà vedere il suo indizio che è il suo il suo come si dice accessorio che è no ha fatto vedere il suo il suo pet non è il suo pet non è il suo pet ma non è il suo pet questo qua è il pet della Nancy Hemi vabbè vabbè eccola qua allora intanto io ho aperto intanto che sentite un e io che sto ripollendo io ho aperto l'altro sacchetto ho trovato la maggiorette e ho trovato sono stata fortunata due glitterate la Cosmic e la Center queste tre le abbiamo tutte e tre allora qui troveremo ancora la T-C-Aspette vuoi dire ah qua la grande prima abbiamo trovato la piccolina qui T-C-Aspette qua c'è il suo numero e questo è il suo indizio e qua abbiamo il suo biberon eccolo qua bellissimo poi ecco la Cosmic no con questo con questo qua della Cosmic ah va in ordine ma si dai dai oh Morgana guarda guarda chi c'è guarda chi arriva no non ha le strisce io non so perché vabbè lei è Queen Bee dei Glitterati Club e lei è una rara noi questa non ce l'abbiamo o meglio abbiamo una foximile e qua dovrebbe esserci l'indizio sì con l'ape e la corona e cosa dice qua i glitter non sono mai troppi mai è vero per noi che adoriamo i glitter la mia gatta e i miei glitter prima non si voleva spostare perché ho la stessa spondere i glitter è vero questo è l'ultimo con la Santa Stage che ce l'ho qua eccola qua la porta di mano ciao sono Santa Stage e mi hai appena riempito gli occhi di polverina c'è l'litterata sì anche là l'litterata no ma non la tiriamo fuori allora questo qua è quello con la Santa Stage vediamo chi abbiamo trovato e abbiamo trovato la Lil Santa Stage ovviamente Lil Santa Stage che è del Dance Club ed è un'ultra rara noi ce l'abbiamo questo è il suo numerino e questo è il suo indizio giusto e vediamo cosa ci dice la stellina la stellina questa non è la sua borsetta no è della è della è bravissima eccole qua sono un po' bellissime vai Mu perfetto che bello allora l'imposh del queen la del queen che c'è anche quella da qualche parte eccola qua lei non sapete mai che c'è sotto qua bella lei però no lei è via devo aspettare Spice vai Mu intanto io che tu gratti velocemente ancora velocemente eh sì perché siamo già a 14 minuti di video 15 quindi abbiamo trovato la lì il brbb oh non ce l'abbiamo la brb il brbb della popolare questo cartellino poi l'indizio ma scusa ma nel sacchettino dove amica se ce n'è solo uno di il coniglietto di neve e come sticco abbiamo gli occhiali da sole ma non mi sembra che sia il suo indizio però non mi ricordo vai The Queen falla vedere ta-da ce l'abbiamo vedi lì anche da provare eh sì ce l'abbiamo qua eccola qua ciao hai trovato me sì sono carina carina sei una rara eccola qua è un po' sporco eh diamo un po' il suo biberon bellissima sì dopo li mettiamo a posto vai pulici lascia di qua dopo li prendiamo bene poi con calma spice bella la spice però questa qua è la spice quella normale vero non è quella è quella normale è quella della seconda serie sì vai mu sì abbiamo fatto acquafera eh non ce l'ho acquafera lei la adoro mi piace tantissimo infatti è una fancy no ma è una popular lei è una popular sì anche lei io l'adoro perché è del teatro lei è del teatro quindi la adoro sì e quello è non è non è il suo biberon ma quello è della MC Swog sì ti sei sporcata tutta la faccia con con questo ok io ho finito allora io nel frattempo ho aperto aspetta che mettiamo un posto di inquadratura ho aperto il mio ultimo sacchetto ho trovato la Lil come si chiama questa oddio mi sfugge la Surfer eccola qua la Pink giusto questa è la Pink vero un Flash e la Coconut la Coconut allora apriamo subito la vediamo lei apriamo sì oggi non scartiamo nessuna chi abbiamo trovato ah questa qui è la nel frattempo scusate ma qua si parla di Glitter si parla di gatti eccoci arrivati a casa nostra Milady saluta saluta Milady ciao io mi chiamo Milady lei mi piace entrare nei vostri video io amo i glitter ok io amo i glitter e lei è la eccola qua la Lil Hoops Empy V Athletic Club Popula il suo numero bravissima questo è il suo indizio e la stellina ci dice qui per vincere lei è l'Atlantic Club poi la Coconut anche qui comunque abbiamo trovato due glitterati e chi abbiamo trovato Morgana chi è? la pranzo che è del theater eccola lì il theater club praticamente l'abbiamo ciao intanto mi sta facendo vedere Morganella questo è il numero questo è il suo indizio che è uguale identico a quella del genio oh la sua cucciolina la papsta non ce l'abbiamo no purtroppo non ce l'abbiamo perché io sono in cerca di quella che cambia colore e io vado col mio ultimo dischetto tanto io cosa si riesce oh mamma la Bibibop e no non c'è no non c'è del retro club è la Lil no popular questo è il suo numero questo è il suo indizio si e la stellina ci dice che questo è il suo biberon vero? no si no si allora io ho trovato Curious ti ci aspetta la ti ci aspetta lei mi spanca la Lil mi spanca noi non ce l'abbiamo no però abbiamo la grande allora la andiamo di cosa oh ma non abbiamo trovato uno doppio per adesso guarda guarda che è questa l'amo anche lei ce l'abbiamo ce l'abbiamo che cambia colore le avevo fatte a vedere si lei è vai mamma la heartbreaker dello storybook club ed è una pensa è una popular e noi non l'abbiamo mai trovata si infatti sono andata a comprarmela e questo è il suo biberonzolo guarda che vuoi prima vai ti aspetta Lil ti aspetta e troviamo la Lil Magiorette che bello ma sai che mi piacciono tantissimo sti cose perché non è come un gattavinci ma è un gattavinci non vince niente peccato però almeno pensa che bello hai vinto tutte le roll surprise no hai vinto tutte le glitterate ultra roll no hai vinto tutte hai vinto punk boy e lo stavo perdendo è fatta lo stavo perdendo sarebbe guarda no oh ma Lucky e qua c'è il telefono di Chiqui Baby no è il suo il telefono non ha mica il telefono Lady no aspetta no ha il cappello sai che non lo so non ce l'abbiamo noi diteci diteci quel telefono qua di chi è perché lei ha il cappello della sua grande infatti adesso che mi viene in mente ci dite di chi è questo grazie le nostre ragazze sono utili guarda chi è aspetta che si è sfocata ho già capito chi è è la Fancy no è la Fancy è la Miss è la Lil Miss no è la Lil Miss Baby eccola lì siamo a 21 minuti di video qua ci uccidono scusa però con noi siamo ma ci amano tutti Lil Miss Baby del Glen Club grazie Lucky cosa hai trovato non l'ho visto ha la sua corona bene allora io spero che il video vi sia piaciuto mettete un po' di censura iscrivetevi diteci di chi ha questo telefono noi vi salutiamo vi facciamo un bacione grosso saluta anche i ragazzi diteci magari se volete che ne grattiamo ancora sicuramente noi li prenderemo magari ne grattiamo tipo due a testa perché tre sono tanti viene troppo lungo allora noi vi salutiamo vi facciamo un bacione grande e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao